Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale probabilmente provocato da una mancata precedenza avvenuto pochi minuti dopo le 14 di oggi 3 novembre a San Drigo in via Chizzalunga. L'impatto ha coinvolto un camioncino alla cui guida c'era un uomo di 57 anni che viaggiava a direzione Breganze e un'auto Honda condotta da una donna di 41 anni del posto che stava giungendo da Breganze che aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra in via Capitello. L'uomo non è riuscito ad evitare l'impatto con l'utilitaria che a seguito del violento urto è stata sbalzata sullo sparti traffico rimanendo con le portiere bloccate. Sul posto una pattuglia della polizia locale nord-est Vicentino di staccamento San Drigo insieme a un'ambulanza. Sono stati proprio gli agenti a prestare il primo soccorso alla conducente forzando le portiere e tirandola fuori. La donna è stata portata in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Vicenza.